Buongiorno della FTI Online, parte bene questa mattina la borsa, siamo in questo momento con il Fuzzimib che guadagna lo 0,4% circa, vedete superati anche i 21.250 punti, l'indice sembra intenzionato ad andare a prendere il lato alto del canale intorno a 21,7, sicuramente un quadro grafico positivo, non va dimenticato che per il momento invece il future ancora è al di sotto della resistenza, in questo momento abbiamo questa differenza tra indice e future che è derivante ovviamente dal diverso computo dei dividendi nell'ambito del periodo di considerazione, sul future siamo ancora al di sotto della 28, la resistenza è intorno a 29, se dovessimo vedere superata la 29 con il future sarebbe questo un ulteriore segnale conferma che ci permetterebbe di puntare, come dicevo, al test di area 21,7, 21,750 sull'indice con una certa tranquillità. Altro riferimento da controllare con attenzione è il DAX perché vedete mentre il nostro indice è al di sopra della mediana del canale crescente che parte dai minimi di fine 2018, questa era la mediana che è stata superata con un gap nella seduta di ieri, con il DAX siamo arrivati questa mattina proprio in prossimità della resistenza, quindi servirà il superamento della mediana che in questo momento passa intorno agli 11.730 punti per avere anche in questo caso una conferma della possibilità di andare a prendere almeno area 12.050, in questo caso stiamo parlando del DAX indice e non del DAX future, per quello che riguarda il DAX future la mediana del canale crescente è stata superata anche se di poco proprio questa mattina perché vale circa 11.727, 28 punti, in questo momento siamo a 11.730, quindi DAX future sopravanza leggermente l'indice in termini di segnali tecnici, però siamo veramente anche in questo caso ancora troppo vicini alla resistenza per dire che c'è stata una rottura, quindi DAX da seguire con attenzione nel prossimo ore per capire se ci sarà il superamento delle quote che abbiamo indicato. Di cosa parliamo stamattina? Volevo innanzitutto guardare insieme proprio il grafico giornaliero del Fuzzimib e del DAX per farvi vedere uno strumento di cui ogni tanto parlo, ma che in questo caso è sicuramente di interesse, che sarebbe il ventaglio dei Fibonacci, vedete il ventaglio dei Fibonacci ci dice che il Fuzzimib è arrivato sulla resistenza data dalla linea del 61,8% proprio nella seduta di ieri, ora vi spiegherò come vengono costruite queste linee, mentre per quello che riguarda il DAX siamo in una situazione molto simile. In questo caso la linea del 61,8% è stata toccata nelle ultime due sedute e quindi anche questa mattina, ma non è stata superata. Come si costruisce questo ventaglio è abbastanza semplice, vi faccio vedere come si fa con il grafico del Fuzzimib, innanzitutto si calcolano i ritracciamenti di Fibonacci, diciamo quelli canonici in orizzontale, da un minimo a un massimo, di solito quando calcoliamo i ritracciamenti prendiamo gli estremi di un movimento, non è detto che questa sia la unica tecnica, per semplicità utilizziamo questo punto di partenza, vedete siamo partiti dal massimo di maggio scorso anno e abbiamo calcolato i ritracciamenti per il movimento che c'è stato fino ai minimi del 2012, che cosa ci dicono i ritracciamenti? Che ogni volta che una quota di resistenza viene superata, prima il 23,6%, poi il 38,2%, poi il 50%, si va al gradino successivo, vedete più o meno quello che è successo nel corso degli ultimi mesi, superato il primo dei ritracciamenti, i prezzi hanno ondeggiato attorno a questo per un po' di tempo, poi si sono diretti verso il secondo gradino della nostra scala, sul 38,2% sono stati per alcune sedute, poi hanno accelerato a rialzo fino a aver testato ieri il 50%, come si costruisce invece il ventaglio? Semplicemente una volta individuati i nostri ritracciamenti orizzontali, tracciamo una riga verticale a partire dal minimo che abbiamo utilizzato per il calcolo dei ritracciamenti e sulla verticale di questa serie di ritracciamenti facciamo passare le nostre linee inclinate che diventano il nostro ventaglio, quindi se voi guardate la linea del 61,8% non è altro che la linea che partendo dal massimo incrocia sulla verticale che abbiamo tracciato il ritracciamento al 61,8% e ovviamente la stessa cosa la potremmo fare ad esempio per il 78,6% nel momento in cui questa linea venisse superata, sappiamo che il ritracciamento successivo al 61,8% è il 78,6%, una volta individuato il 78,6% sulla nostra linea verticale non facciamo altro che tracciare la linea del ventaglio pertinente a questa quota di ritracciamento, quindi se i prezzi dovessero superare questa area di resistenza dove troviamo la coincidenza tra il 50% orizzontale e il 61,8% del ventaglio avremmo una resistenza successiva che è quella dei 22.000 punti data dal 61,8% orizzontale e dai 22.500 punti circa che sarebbero il ventaglio del 78,6%. Si tratta di uno strumento quindi estremamente efficace ed utile, diciamo che il vantaggio rispetto ai ritracciamenti tradizionali ovviamente è che in questo caso viene preso anche in considerazione il tempo dal momento che la linea ha una sua inclinazione e quindi il suo valore ovviamente varia in base al tempo, più è ripido il movimento in questo caso di rimbalzo, la stessa cosa vale ovviamente anche in caso di una correzione di un movimento rialzista, più è ripido il rimbalzo, prima viene incontrato il livello di resistenza perciò viene incontrato su valori più alti. Tutto questo per dire che la quota interessata dai prezzi in queste ultime due sedute area 21 e 250 del Fuzzimib è estremamente rilevante, il superamento di questi livelli e questa mattina siamo intorno ai 21.300 punti quindi siamo al di sopra di questa duplice resistenza sarebbe un segnale molto interessante perché ci lascerebbe sperare nel test almeno di area 22.000. Abbiamo detto che sul DAX c'è forse ancora da attendere una conferma che sul Fuzzimib sembrerebbe essere già arrivata, però vedete anche sul DAX basterebbe in termini di ventaglio di Fibonacci una chiusura di seduta al di sopra di 11.700 per avere la conferma del superamento di quella quota. Purtroppo invece il 50% di retracement di tutto il movimento precedente leggermente più in alto è a 11.745 i massimi di questa mattina per adesso sono stati a 11.740 quindi siamo proprio al limite con il DAX con questa ulteriore area di resistenza sopra 11.740 anche in questo caso bel segnalo di forza target a 12.100 dove troviamo peraltro anche il gap ribassista che i prezzi si sono lasciati alle spalle l'8 di ottobre dello scorso anno con lato alto a 12.100 punti circa quindi coincidente col 61.8% retracement. Guardiamo rapidamente anche l'indice S&P 500 c'è grande attenzione tra oggi e domani per la riunione della Fed ovviamente non ci sono attese sul fronte del cambiamento del costo del denaro quindi tassi fermi al 99% il mercato è però in cerca di risposte per quello che riguarda la velocità con la quale verrà ridotto e se verrà ulteriormente ridotto il bilancio della banca centrale per capire quanto e se verrà appunto drenata liquidità dal mercato. il nostro S&P 500 è inserito in questo canale crescente la mediana del canale quindi il nostro riferimento diciamo di breve più o meno è in transito a 2.855 sopra quei livelli avremo una conferma della rottura della importante resistenza di A2.820 dove vedete si collocano i massimi dello scorso ottobre, dello scorso novembre e di inizio marzo di quest'anno quindi già un segnale di forza notevole è stato dato con la rottura di 2.820 se adesso dovessimo vedere i prezzi anche di sopra 2.850 sarebbe probabile il ritorno sui record dello scorso anno a 2.940 quindi una situazione per quello che riguarda la borsa americana potenzialmente interessante vi ricordo che prima di cantare vittoria sarà necessario assistere a una rottura decisa di area 2.950 perché questo bel rialzo che c'è stato dai minimi di fine 2018 potrebbe ancora dimostrarsi parte di tutta la fase correttiva che i prezzi hanno disegnato a partire dai massimi di inizio 2018 del gennaio dello scorso anno. Non si può quindi ancora escludere l'ipotesi che dopo il test dei record dai quali proveniamo ci sia una ulteriore fase calante che andrebbe a completare la nostra fase correttiva quindi c'è la possibilità che i prezzi una volta arrivati su quei livelli tornino indietro in un intervallo che potrebbe essere tra la metà e l'intero movimento che li ha preceduti. Sicuramente quindi si può essere positivi nel breve termine, aspetterei ulteriori conferme quindi la rottura dei massimi storici prima di dire che è ripresa la tendenza rialzista. Personalmente devo dire che sono più propenso a credere alla prima ipotesi ovvero sia che a un certo punto questo rialzo si fermi per poi andare incontro ad una estesa correzione e che quindi non vedremo la rottura di area 2009-50 in prima battuta ma resta comunque un'ipotesi quella di lavoro sulla quale che non è assolutamente trascurabile. Passiamo adesso ai titoli del mercato italiano, guardiamo Fiat Chrysler, questa mattina sta salendo con decisione, la motivazione la andiamo a ricercare sul nostro commento di apertura, del resto penso che sia cosa nota stamattina. In avvio è decisamente forte Fiat Chrysler, dopo l'intervista di Robert Peugeot, presidente della holding di famiglia, uno dei principali azionisti di PSA, la famiglia sosterebbe una nuova acquisizione e con Fiat Chrysler così come con altri sembrano poterci essere condizioni favorevoli. Dal momento che la fusione tra Fiat Chrysler e Peugeot circola ormai da tempo potrebbe essere questo uno scenario che si andrebbe a realizzare, del resto ci sono delle notevoli sinergie soprattutto dovute al fatto che a questo punto Fiat Chrysler ha una forte presenza anche commerciale negli Stati Uniti, il che sarebbe perfetto per il gruppo PSA per espandersi su quel mercato. Comunque prima di avere segnali concreti in questo senso, il mercato sta iniziando a valutare questo aspetto speculativo dopo le flessioni delle ultime settimane che vedete ci hanno portato al di sotto dei minimi di ottobre e novembre lo scorso anno, anche se poi i prezzi siano mantenuti al di sopra dei minimi di gennaio, però sicuramente non è stato un inizio di anno facile per Fiat Chrysler. Con il movimento di oggi potrebbe essere partito un tentativo di rimbalzo che avrebbe come primo obiettivo il lato alto del nostro trading range degli ultimi mesi fino ai 15,30-15,35. A questo punto sarà necessario innanzitutto il superamento di area 13,50 per avere la conferma di poter andare oltre i 15 euro ed è importante che i prezzi non tornino al di sotto dei 13 euro per evitare di tornare ad invischiarsi in quest'area tra i 12,20-13 euro sui quali si erano un po' adagiati nelle ultime sedute. Comunque Fiat Chrysler sopra 13,50 direi che dimostrerebbe una buona vitalità. Bene anche Atlantia che ha potuto avvantaggiarsi del giudizio positivo di un blocco questa mattina, vediamo se troviamo riferimenti anche in questo caso sul nostro commento di apertura, Atlantia sale grazie ad UBS, gli analisti della Banca Helvetica hanno incrementato in modo consistente il target su titolo da 19 a 25,40 euro. Quindi abbiamo una prospettiva di crescita interessante, ormai le quotazioni sono arrivate a testare il lato alto del gap ribassista che si era aperto il 16 di agosto, quindi ricucito quasi completamente lo strappo dovuto al crollo del Ponte Morandi a Genova. Questa mattina siamo a 22,30, il lato alto del gap è a 22,16, già nella seduta dell'8 di marzo c'è stato il tentativo di rottura di quella quota. Diciamo che se i prezzi dovessero mantenersi di sopra di 22,20 anche in chiusura di seduta diverrebbe credibile una estensione del rimbalzo che a questo punto potrebbe diventare interessante e andare a coinvolgere almeno area 24,50-25 euro. Quindi seduta importante oggi per capire come sarà la chiusura, se è di sopra o meno della resistenza. Era che ieri è entrato di diritto nel Fuzzimib e questa mattina sta cercando di confermare la rottura di questa importante resistenza. Vedete qui intorno ai 3 euro ci sono stati molti massimi nel corso delle ultime settimane, questa mattina siamo a 3,04, la chiusura di ieri era 3,04, 3,03, 3,80, il massimo a 3,03, 80, la chiusura era stata 3,02, 80 e quindi sopra 3,04, 3,05 direi che si potrebbe iniziare a considerare questa fase che i prezzi sono lasciati alle spalle un rettangolo e una volta completato un rettangolo è sempre possibile calcolare il target successivo per il, in questo caso per il rialzo, visto che il rettangolo era inserito all'interno di un treno rialzista, proiettando nell'ampiezza verso l'alto, quindi obiettivo a 3,13 euro e mezzo circa. Ovviamente sarà importante vedere i prezzi che si mantengono di sopra di aria 3 euro per evitare che si ritorni nell'ambito della nostra fase laterale. Veniamo infine a Moncler, infine per quello che riguarda il titolo del Futsimib, titolo che sta cercando di dare segnali di ripresa, anzi li ha dati e anche abbastanza convincenti proprio il primo di marzo con la rottura, con un gap di questa linea di tendenza ribassista. Il titolo sta costruendo un trend positivo dai minimi di dicembre, il lato alto del canale che contiene questo rialzo ci fornisce un target per il prossimo movimento verso l'alto che si posiziona intorno ai 39,10 euro. In termini di rilacciamenti Fibonacci rispetto al ribasso dai massimi dello scorso giugno, siamo sopra il 61,8%, quindi diciamo che gli sforzi fatti nelle ultime sedute hanno inviato un segnale che potrebbe essere convincente anche in un'ottica di medio periodo. C'è questo shooting star che le quotazioni si sono lasciate alle spalle il 30 di agosto, vedete una candela caratterizzata da una lunga coda verso l'alto con un piccolo corpo concentrato dalla parte bassa, la candela è comparsa in prossimità di una forte resistenza che era il massimo del 26 di luglio a 40,09 euro, io penso che a questo punto il test dei 40 euro diventi assai probabile. Veniamo infine a Banca Pharma Factoring che è un titolo forse meno liquido ma sicuramente interessante. C'è stata un'accelerazione rialzista dopo la rottura della resistenza di 5,40, questa mattina siamo in leggero ripiegamento ma non mi sembra che sia niente di grave, le quotazioni dovranno però superare l'area 5,65 per potersi dimostrare in grado di ricoprire poi completamente il gap ribassista del 9 di aprile dello scorso anno con lato alto a 5,83 euro, quindi questa flessione su BFF potrebbe essere un'occasione per rientrare sul titolo con prezzi più interessanti rispetto a quelli che avevamo visto nelle ultime sedute. Ci sono molte domande, vediamo se riusciamo almeno a evadere in un paio, su Fiat c'è la domanda c'è da fidarsi, ovviamente vi ho parlato di un interesse speculativo del mercato, c'è il rischio che se questo interesse speculativo viene meno, il titolo come dicevo nella prima parte dell'anno non ha certo dimostrato una forza particolare e quindi c'è da fidarsi, purtroppo non lo sappiamo, dipende ovviamente da quella che sarà l'evoluzione del news flow, certo che essendo un titolo che non ha brillato in questa prima parte dell'anno magari se la borsa continuerà a dare segnali positivi come sembra voglia fare potrebbe essere sostenuto anche dal contesto generale. Per quello che riguarda le altre domande vedo che sono tutte molto interessanti, magari diamo solo uno sguardo a BS che è un titolo del quale ogni tanto parliamo e tutte le altre cercherò di evaderle o sulla nostra pagina Facebook nelle prossime ore oppure non più tardi dell'intervento di domani mattina. Su BS siamo ancora in una fase laterale, non so se questa mattina siamo con i prezzi in crescita o meno, andiamo a vedere rapidamente se riusciamo a recuperare una quotazione. Spesso sono i titoli diciamo meno interessanti al momento che poi diventano però quelli che ci danno le maggiori soddisfazioni in futuro, BS in questo momento è intorno ai 19 Euro, questo nel senso che quando siamo in presenza di una lunga fase laterale come quella che sta disegnando BS è vero che durante lo svolgimento della fase laterale non c'è un titolo di domande molto da fare però ci sono sicuramente delle poi buone opportunità nel momento in cui la fase laterale viene interrotta, in questo caso forse non parlerei di un doppio minimo, in ogni caso potrebbe essere una zona di accumulo che tenta di opporsi al brutto movimento ribassista che c'era stato dai massimi lo scorso anno, se dovessimo vedere i prezzi al di sopra dei 21,50 Euro o più prudentemente anche 22 Euro penso che ci sarebbe una buona possibilità su questo titolo perché avremo ovviamente da correggere tutto questo ribasso. Vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio come sempre delle vostre domande che sono sempre degli ottimi spunti sui quali lavorare per il futuro, vedo che Fabio mi ha scritto anche su Facebook facendo una domanda abbastanza complessa su Elliot, questa quindi sicuramente la evaderò su Facebook di modo che avete la possibilità poi di studiarvi il grafico e vi do appuntamento a domani con il nostro consueto commento giornaliero.